Piccolo presalto sul primo tempo per cui Rado dice ecco che nella discesa c'è stato il tocco Forse con il piede sulla rete, non lo so insomma Sentiamo Rossella Finisce l'azione, cioè l'azione finisce quando si concredita il primo palle Adesso è stata, devo cercare di capire Ah, con il piede, eccolo lì, guardalo Adesso chiudiamo, facciamo parlare i tuoi arbitri E bisognerà capire perché Non è il momento, non è quando la palle non si fa Allora, chiudete i microfoni perché Santi sta parlando tra i colleghi E quindi non dobbiamo sentire quello che si stanno dicendo Allora, Manzoni lo prace, siamo ad alto Sentiamo invece Rossella Piana che parla con Matteo Piano, magari sì C'è la rete o no? Non ho capito Dice dopo c'è stato il tocco sulla rete Esatto, perché prima c'è stato il fallo di piede Sentiamo Santi che parla con Matteo Il primo fallo che si concretizza è l'attacco di Kasischi Seconda linea La palla nel momento in cui va dall'altra parte È fallo, in quel momento è fallo Sì, io pretendo che ha toccato Dopo Il fallo, no no, è arrivato dopo Si vede, si vede, si vede No, 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 la vede C'è il terzo arbitro Lei fa l'allenatore Noi siamo gli arbitri Il terzo arbitro ha visto questa situazione Io sono nel mio posto Lei sul suo Fiuso il discorso Fiuso il discorso Non c'è nient'altro da dire